Per me ci sono due giocatori del Ciccolo Milano Agoghifa, oggi ennesima grande vittoria per loro, intanto li facciamo presentare Luca Minella, Luca Minella sono io, Luca Mercurio Iniziamo subito con un commento in generale sulla partita È stata una partita molto difficile, molto combattuta, eravamo partiti abbastanza bene, poi dopo sono usciti fuori loro e poi per fortuna siamo riusciti a portarla a casa Abbiamo visto una squadra molto più agguerrita rispetto all'anno scorso, è cambiato qualcosa? Ah sì, abbiamo acquistato un paio di giocatori, abbiamo perso Deglio, che salutiamo, ci manca sicuramente tanto Abbiamo preso un paio di giocatori nuovi, direi che si sono inseriti bene, siamo partiti bene, siamo contenti di questo inizio di stagione Abbiamo fatto due vittorie e speriamo di continuare così Facciamo anche un commento in positivo sugli avversari che hanno perso Questa è una squadra sempre dura da affrontare, molto fisica, anche loro hanno fatto una buona partita e mi sembrano abbastanza in forma Noi intanto li salutiamo